È morto sul colpo Luigi Torriani, 60enne pensionato, residente da pochi anni a Casale Cremasco-Vidolasco. L'incidente, uno scontro frontale tra una Fiat 500 ed un camion, è avvenuto lungo la rivoltana a Trucazzano, interlandese di Milano, all'incrocio della strada provinciale 39. Lo scanto è avvenuto verso le 10.30, ma sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti al vaglio degli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombardi a Damartesana. Troppo forte l'impatto tra il camion e la Fiat 500, tanto che la vettura condotta da Torriani è stata sbriciolata e non gli ha dato scampo. Diverse le condizioni dell'autista del camion, che ha riportato invece solo lievi ferite. Immediato l'intervento del personale sanitario, il medico, viste le condizioni disperate del 60enne, ha chiamato l'elisoccorso, ma per Torriani ormai non c'era più nulla da fare. È stato solo possibile constatare il decesso. Luigi Torriani, milanese di provenienza, si era trasferito da poco nel paese di Casale Cremasco-Vidolasco. Anche il sindaco Antonio Grassi, interpellato, ha detto di non conoscerlo personalmente, ma di aver saputo che era solito frequentare un bar del paese, Portobello, dove si fermava a fare colazione. Era riconoscibile per la Fiat 500 Gialla. Coloro che l'hanno conosciuto riferiscono di una persona affabile e gioviale, che lascia comunque un vuoto nel paese che aveva adottato per passare in tranquillità gli ultimi anni della sua vita.